A proda nelle Marche il progetto digital di ANAS per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Si tratta di un viaggio sulla rete stradale e autostradale per testimoniare l'impegno che quotidianamente e personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade ma anche nei progetti di completamente potenziamento dei grandi itinerari per un'Italia sempre più connessa. Sulla piattaforma digital e social di ANAS è disponibile la seconda puntata girata nelle Marche dove ANAS gestisce oltre 1500 chilometri di rete stradale. Paolo Testaguzza responsabile della struttura territoriale delle Marche. La rete stradale ANAS si è ampliata recentemente con il rientro di 531 chilometri di strade ex-stadali, in particolare la Flaminia che costituisce un collegamento interregionale e un valida alternativa al percorso E78, Grossetofano e 45. Si parla degli investimenti nella manutenzione e nello sviluppo di nuove opere ma anche del piano di ripristino della viabilità a seguito del Sisma nel centro Italia. Gli investimenti, manutenzioni programmate e nuove opere sono oltre 4 miliardi nelle Marche, in particolare abbiamo anche il Sisma con 700 milioni di investimenti dal primo al settimo stralcio, l'ottavo stralcio del Sisma è il PNRR con un investimento per le sole Marche di oltre un miliardo, di cui 500 milioni già finanziati in parte appaltati. Sono presenti anche focus dedicati ai lavori di raddoppio della statale 16 Adriatica ad Ancona, al potenziamento dell'itinerario E78 e della statale 4 Salaria e ai lavori di manutenzione della statale Flaminia tornata sotto la gestione ANAS con il piano di rientro strade. In questi ultimi anni ci stiamo concentrando sull'aumento della vita utile delle infrastrutture stradali, nonché dell'impiantistica a servizio delle gallerie e della rete in generale, con sostituzione degli impianti di illuminazione vetusti a vapori di sodio, con LED, regolatori di flusso nelle gallerie per diminuire i consumi e andare nella direzione della sostenibilità e del miglioramento in generale della qualità della vita.